Nuova gamma su bruno, design produttivo e tecnologia fondante, qualità e affidabilità tra condizze fino a 8 anni di garanzia che non dovrà girare in un dato, scoprile di un showroom, tuo da 29.900 euro e fino a 7.000 euro e principi di amica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.